Buonasera a tutti ragazzi, finalmente non mi devo incazzare, finalmente una vittoria, una vittoria importantissima, una vittoria fondamentale, non è ancora fatto niente, però tre punti veramente importantissimi contro il Frosinone, che ci vede agganciarli in classifica a quota 40 e per di più, oltre ad agganciarli in classifica, ricordo che abbiamo lo scontro diretto a favore contro il Frosinone e anche contro l'Ascoli, che ha vinto e si è avvicinato ancora, quindi ottimo perché scontri diretti di Sacro Frosinone che con l'Ascoli li abbiamo a nostro favore, tre punti importantissimi che ci permettono appunto di agganciare, quindi il Frosinone è sotto di noi, sempre a quota 40, noi abbiamo per di più, ricordiamolo sempre, una partita in meno che dobbiamo recuperare con il Pisa e alla prossima, ricordo che c'è l'infra settimanale, noi giochiamo martedì alle 7 fuori casa contro la Reggiana e questa sarà un'altra partita fondamentale, perché intanto mancano pochissime partite, qualora dovessimo vincere contro la Reggiana non sarà ancora fatto niente, però veramente è un grandissimo passo verso la salvezza, poi ci sarà la gara, poi vedremo, perché comunque poi avremo la Serenitana in casa, molto difficile, poi sarà da vedere se questo campionato domani decideranno se si ferma, se non si ferma, se prima si recuperano tutte le partite o se si continua normalmente, fatto sta che noi comunque, anche se si dovesse fermare il campionato, giocheremo, perché dobbiamo recuperare la partita col Pisa, anche quella fondamentale, ragazzi, sulla partita di oggi che dire? Alla fine, il Frosinone soprattutto nel secondo tempo ha avuto il pallino del gioco, ha avuto sicuramente più possesso palla, però prendiamoci chiaramente, il Frosinone quante occasioni veramente pericolose ha fatto? Una, una, che è stato tra l'altro l'unico tiro in porta, e allora il Pordenone ha fatto, se non sbaglio, 4-5 tiri, 4 tiri forse ha fatto, comunque 3-4 in porta, 2 gol, 1 fuori, 5 tiri, 1 fuori, mi ricordo i tuoi gol di Ciuria, grande Ciuria ragazzi, prestazione, io dico sempre, è vero che andato via Dio, è vero che comunque il nostro attacco con il suo andare via si è indebolito sicuramente con degli rimpiazzi non adeguati, però comunque segniamo, riusciamo a segnare, riusciamo a essere pericolosi, quello che mi preoccupava molto era la difesa, la difesa che invece oggi, a parte qualche cavolatina che comunque succede sempre, è stata molto concentrata, Questo vuol dire che se la difesa è concentrata e se la difesa è supportata dal centrocampo, perché oggi la maggior parte della partita siamo stati dietro la nostra metà campo, perché comunque siamo andati sul 2-0 dopo 20 minuti, bravissimo Ciuria, lì bravissimo, è affortunato, perché c'è stato un cross, Musiulic di testa, nessuno del Frosinone la prende, sbuga Ciuria davanti al portiere che la insacca, E invece secondo gol, un applauso a Zammarini, un applauso a Zammarini che oggi mi è piaciuto, ma soprattutto un applauso perché questo gol è gran parte merito suo, perché intercetta un pallone, inizia la ripartenza, dà la palla a Ciuria che insacca, quindi bravissimo Zammarini e bravo anche Ciuria che riesce a insaccare e non sprecare l'occasione. Dopo due minuti siamo andati sul 2-0 e comunque questa partita sappiamo che era molto importante per la situazione mentale nostra, di classifica e quant'altro, abbiamo lasciato il pallino del gioco al Frosinone e noi siamo andati di ripartenza, tant'è che dopo Ciuria ha avuto l'occasione per la tripletta, peccato perché di testa voleva indirizzarla in porta, la prende malissimo, la palla va a fil di palo dall'altra parte, poteva essere la tripletta. Sempre Ciuria nel secondo tempo un tiro sul primo palo non pericolosissimo, della verità, il Frosinone è vero, ripeto, il Pordenone ha rinunciato a pressare alto nel primo tempo, ha lasciato un po' il pallino del gioco, ma nel primo tempo ragazzi non ha avuto nessuna occasione pericolosa, ripeto il Frosinone ha fatto un tiro in porta forse e tutti gli altri li ha tirati fuori, perché la maggior parte dei tiri erano alti, alti, alti. Nel secondo tempo inizialmente abbiamo pressato un pochino, però dopo ragazzi questa squadra non riesce a tenere 90 minuti, l'anno scorso al novantesimo erano ancora che galoppavano avanti e indietro, quest'anno si vede veramente un calo fisico incredibile. Però siamo stati dietro, siamo stati concentrati, ovviamente il Frosinone a fine partita ha provato il tutto per tutto, sono andati tutti su, Butic ha avuto anche l'occasione per il 3-0, perché c'è stata quella sorta di... Ha cercato quel pallonetto che poteva fare alto sicuramente, però non era neanche una cattiva idea, perché comunque tanto tanto poco più alta andava a superare Bardi e a fare un gol di pallonetto. Quindi insomma ci stava peccato, perché le nostre occasioni pericolose le abbiamo avute, abbiamo avuto più occasioni pericolose secondo me del Frosinone, che ripeto, la maggior parte dei tiri li ha tirati alti, e secondo me l'unica occasione pericolosa è stato quel colpo di testa che io veramente ho visto dentro ragazzi. Se veramente pensavo fosse entrato il pallone, non mi ricordo se era un angolo o un cross, colpo di testa, tipo stile a pallombella, Parisan si lancia, qua la insacca all'angolino, Parisan non ci arriva, invece è uscito a fil di palo ragazzi, io lì veramente l'ho vista veramente dentro. Però per il resto, parliamoci chiaramente, tanto possesso palla, pallino del gioco, il porterone era dietro, tutto quello che volete, ma di occasioni veramente pericolose ce n'è stata una, che ricordo, forse ce ne sono state due, ma me la devo proprio dimenticare, perché comunque io me ne ricordo una, ce ne sono state occasioni che potevano essere più pericolose, perché alcuni tiri che sono andati alti sono stati fatti anche da limite dell'aria, insomma, da delle buone posizioni, però le antiliate non alte di poco, proprio alte, veramente alte, quindi non pericolose. Però, poi comunque erano molto aggressivi, molto fallosi, è stata una partita molto spezzettata, molto fallosa e quant'altro, fatto sta che non me ne frega proprio un cavolo, abbiamo vinto, abbiamo meritato, secondo me, perché comunque, ripeto, non è perché se una squadra più possesso palla, automaticamente merita la vittoria, abbiamo avuto più occasioni pericolose, abbiamo avuto molte più occasioni pericolose, come vi ho appena detto, e le abbiamo sfruttate, loro hanno fatto un bel po' di errori, siamo stati concentrati dietro, quindi secondo me la vittoria è anche meritata, adesso abbiamo la reggiana e anche lì bisogna stare concentrati e non sbagliare. Io con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo domani in live, forse della Formula 1, comunque sicuramente la faremo qualcosa. A domani ragazzi, buona serata.